Una cosa, dico una cosa soltanto, vi rubo due minuti, due giuro, la prendo un po' da lontano ma sono solo due minuti. 20 anni fa Jonathan Franzen pubblica un articolo su Harper's intitolato Perché scrivere romanzi e in questo saggio, abbastanza rassegnato, si chiede quale sia stato l'ultimo romanzo che ha avuto un impatto reale, forte, potente sulla cultura americana, quando sia stata l'ultima volta che un libro ha scosso il dibattito culturale, la vita degli americani, il loro immaginario e la risposta che si dà è che l'ultimo libro in grado di fare questo è stato un romanzo pubblicato da Philip Roth alla fine degli anni 60, Il Lamento di Portnoy, un libro con cui tutti nel 68 hanno dovuto fare i conti, persino la madre di Franzen che si rifiutava di leggerlo, sapeva perfettamente di cosa parlava Il Lamento di Portnoy, un libro che lei si rifiutava di leggere perché era osceno. E Franzen naturalmente osservava questo fenomeno, questo lento declino, questo decentralizzarsi del romanzo con rassegnazione, come l'agente di un'agenzia turistica oggi che vede booking, trip advisor, rubargli il lavoro e rubargli la scena. Questa sera abbiamo la fortuna di avere qua Roberto Saviano, che mi sembra di capire, conosciate tutti, che dieci anni fa esatti, all'età di 27 anni, 27 anni lo sottolineo per chi di voi pensa che il futuro arriverà fra una decina d'anni ancora, ha pubblicato un libro intitolato Gomorra che ha fatto esattamente questo, ha sovvertito l'ordine del giorno, del dibattito che questa nazione intratteneva con se stessa, ha introdotto una nuova cifra letteraria nella fiction e nella non fiction con cui tutti hanno dovuto fare i conti e ha fondato un universo narrativo che continua a vivere tutt'oggi, una pièce teatrale, un film premiato a Cannes, una serie dal successo planetario. Quindi noi, giovani narratori, siamo felici e fortunati all'idea di averlo qua questa sera. Io voglio ringraziare in particolare Francesca Tablino, che pochi di voi conoscono, ma che ha reso tutto questo possibile e naturalmente voglio ringraziare a nome della scuola e di tutti voi Roberto Saviano che questa sera ci parlerà di narrazione, di comunicazione e dei meccanismi che regolano l'informazione. Roberto, take it away. Allora, sentendo queste parole così belle e protettive, mi sono ricordato che per esempio ero venuto alla Holden prima di scrivere Gomorra. Avevo scritto delle cose su dei blog, precisamente su Nazione Indiana, che nascevano questi blog letterari, queste riviste letterari che sostituivano ormai le riviste letterari che stavano morendo, parlo del cartaceo intendo, quindi nessuno le comprava più, non c'era più un circuito, neanche le librerie vendevano. E mi colpì che fui rintracciato perché non avevo ancora pubblicato un libro e mi capitò quindi di dover relazionare sul metodo, sul metodo di lavoro. Per chi vuole fare il narratore o per chi vuole fare lo sceneggiatore, che è una forma di narrazione ovviamente, per chi vuole lavorare con il racconto, mi sento dopo tutti questi anni così deliranti, io non sapevo di finire in questi guai, neanche per un attimo. Avevo 26 anni e avevo la voglia di raccontare, scrivere, condividere con pochi, quindi non avrei mai immaginato. Se avessi immaginato so di non dare una risposta coraggiosa, ma non l'avrei fatto. Almeno sono sicuro di essere autentico rispondendo così. Ma tornando a quello che stavo dicendo, chiunque voglia lavorare è raccontando, documentando, osservando, analizzando, mappando, disegnando. In un paese come il nostro la domanda che si deve porre è quanto sono disposto a perdere per realizzare quello che voglio fare. E la risposta ve la dovete dare da soli e non può essere insincera. Per quanto mi riguarda non c'è nulla che valga la pena che ti porti a rinunciare alla vita, alla serenità, all'equilibrio. Non lo credo affatto. Anche se sarebbe bello poter raccontarla, cioè siate eroici, cosa siete disposti a perdere per tutto, per l'obiettivo. Io per esempio non sono così. Però so anche che è una domanda che mi sono posta e continuo a pormi di volta in volta. Cosa sei disposto a perdere? Serenità economica, per esempio. Equilibrio? Tranquilità familiare? Passare la vita a fare processi? Nel mio caso è soprattutto questo. Passi la vita a fare processi, a difenderti. Mettere a rischio chi ti è vicino? Mettere a rischio non significa che vi dovete occupare o che ci si occupi solo di un mafio terrorismo per cui ti ammazzano i familiari o te. No. Mettere a rischio significa anche impegnarsi talmente tanto, talmente tanto, perdere ogni forma di cura di ciò che ti è intorno per raggiungere un obiettivo, che chi ti è vicino paga un prezzo. Siete disposti a questo? Si è disposti a questo? Non lo so, non so neanche qual è la risposta giusta. Però so solo che a un certo punto nella mia vita, per fare un libro e contro la mia volontà, mi sono trovato in un casino disastroso che il paese non conosceva, perché non è che c'erano stati scrittori nella mia situazione, tutti mi hanno sempre solo paragonato, e il mio oddio, ah no, tutti mi hanno sempre paragonato a Rashidi, che era l'unico caso, in realtà poi ce n'erano moltissimi altri, poi riguardo i giornalisti ancora di più, però questa cosa mi angosciava molto, come condizione. Perché mi angosciava? Perché era totalmente diverso. Rashidi aveva inciampato nella fatva di Khomeini, facendo un libro letterario, che citava i versetti satanici, quindi i famosi versetti rimossi dal Corano, in due parole, Mohammed, per convincere una città a passare dalla sua parte, dichiara che Allah non è l'unico Dio, ma dichiara che gli dei di quella città sono ugualmente a livello di Allah. Lo fa furbescamente per ottenere il consenso di quella popolazione. Una volta che quella popolazione lo appoggia, lui distrugge gli altri dei e mette soltanto Allah. Però ci sono questi versetti satanici, perché come li giustifica, Mohammed, dicendo no, non è stato l'Arcangelo Gabriele a dettarmeli, ma è stato Satana, quindi bisogna cassarli. Salmar Rashidi inserisce questa storia e quei versetti in un libro che parla di tutt'altro. E Khomeini, che aveva bisogno di attaccare un intellettuale islamico, ma che scriveva in un inglese tra l'altro eccellente, lo fa apposta, sceglie Rashidi che del tutto incolpevole, non è che aveva deciso di affrontare il potere degli Ayatollah. Nelle prigioni iraniane morivano decine, decine, decine e centinaia di intellettuali che scrivevano contro l'Ayatollah, ma lui decide invece di attaccare un libro che non aveva scritto contro l'Ayatollah, contro l'Iran, ma che aveva avuto quella citazione e lo condanna a morte. Nel mio caso io avevo affrontato i clan consapevolmente, ma non pensando minimamente al rischio, perché c'erano state decine di libri su quel tema, Camorra, centinaia sul tema mafia, altre decine sul tema Andrangheta. Quindi perché? E qua è il punto, la letteratura. Cioè a un certo punto succede che quando tu decidi di scrivere una storia in un certo modo, è lì la pericolosità, il metodo. Quella storia smetteva di essere una storia di cronaca, smetteva di essere una storia di quartiere, smetteva di essere la storia di una regione, di una famiglia, di un crimine, boom, e diventava qualcos'altro. Quel qualcos'altro era dato dal metodo, dalla possibilità e dalla capacità di rendere universale, decrittabile, sentimentale, con emozioni, una storia che sarebbe stata invece percepita soprattutto da qui. Io sono cresciuto sin da bambino immaginandomi, il Piemonte è sempre lontanissimo, ho pensato che i carabinieri del mio paese sono sempre stati chiamati i piemontesi. Sempre. E quindi in questa logica, anche qui, anche in Francia, anche in America, queste storie sono diventate le loro storie. Un pentito, uno di quelli che mi ha rovinato la vita, poi si è pentito un boss, si chiama Antonio Iovine, detto il ninno, il bambino. Durante un interrogatorio, lo trovate online, che è stato pubblicato ovunque, dichiara che Gomorra le aveva portati, come sai, in America. È un'immagine che mi ha molto colpito, che ci ha portati in America, cioè una cosa che nessuno per fortuna conosceva, è arrivata, ma quella non sono stato io, per niente. Quello è il metodo, è lo strumento, è la letteratura, letteratura, la pericolosità della letteratura. Dov'è la pericolosità? Da cittadinanza universale a qualcosa che non ha cittadinanza o ha una cittadinanza particolare, marginale. La forza è tutta qua. Ora, in realtà il tema era sulla comunicazione, volevo parlare di comunicazione riguardo questo, cioè mi è capitato, non nel corso degli anni, di misurarvi con i social. Per uno scrittore è difficilissimo avere quei numeri che mi è capitato avere, no? Due milioni e passa su Facebook, un milione e tre su Twitter. Sono numeri che non hanno, in genere, gli scrittori. Tanto è vero che ho scoperto, vivendo per un po' in America, una cosa strana, bizzarra. Per dire quando mi devono attaccare che, insomma, valgo poco, che, insomma, i giornalisti americani dicono, ma sappiamo, due milioni di follower su Facebook, come dire, è chiaramente un fake, non può essere che uno scrittore bravo abbia due milioni di follower su Facebook. È una Kardashian, no? È interessante, cioè è il contrario. È un modo per dire, ha troppi, interessantissime, ha troppi follower. Infatti se vedete le firmette più fighette, no? Americano, quelle, New Yorker, questa roba qua, sempre pochi, sempre così, no? Sempre giusti, eletti. E va bene, è una scelta. Per quanto mi riguarda io mi sono trovato, io avrei voluto avere lo stesso stile di queste persone, ma in realtà era troppo più alto l'obiettivo che mi ero posto. Cioè, in fondo a me non interessava misurarmi con altro che con la possibilità di incidere nel mio tempo. Questa è stata la mia ambizione, la mia forse troppa ambizione. Cioè, non mi importava niente di avere la recensione positiva, non mi importava niente di, boh, che i miei amici dicessero, ah però, scritta bella cosa. A me interessava incidere. Non mi immaginavo così, ma incidere significava accendere una luce su qualcosa che in fondo veniva considerato secondario, marginale, che non riguardavano. Il tema comunicazione, dove è dentro alla nuova grammatica che sta raccontando il reale. Per esempio, mi ha molto colpito vedere come il selfie sia mal raccontato e poco raccontato o persino demonizzato. Perché il selfie e Gomorra hanno in qualche modo un punto di contatto? Perché io in Gomorra decido, e poi è il mio metodo che cerco di apprendere dagli autori del New Journalism americano, oggi odiatissimi in America, Truman Capote è considerato un cialtrone nelle accademie giornalistiche, Capuscischi è considerato un fanfarone senza bibliografia, anche lui parla del mondo anglosassone, noi non siamo così e secondo me dobbiamo difendere con le unghie e con i denti la nostra diversità, ma poi ci arrivo, Gaite Lese, ma anche Corrado Stajano, il Corrado Stajano di Africo, Danilo Dolci, Gio Marrazzo, l'autore del camorrista, un libro fenomenale sottovalutato tutt'oggi, questi mi avevano dato il coraggio di poter raccontare la realtà con nome e cognome, ma mettendoci dentro me, il selfie, cioè mettendosi dentro me e dietro o a fianco c'era la realtà. Al contrario di tutte le scuole giornalistiche che dicevano invece che mettendo te dentro stai modificando, manipolando, alterando il racconto, per cui devi fare soltanto un racconto di fiction, come fanno gli americani, per essere legittimato, perché altrimenti non sei credibile. Io invece non mi fregava nulla della giusta distanza, volevo la giusta vicinanza, volevo stare attaccato alle cose, volevo vederle male, perché volevo vederle attraverso il mio filtro, ma non volevo rinunciarvi a battezzarle, a descriverle, a dare nome, cognome, a spiegare cosa è. E quello è un selfie. Perché il selfie, ovviamente è un gioco provocatorio, ma proprio perché il selfie diventa così importante? Perché nella narrazione, un ragazzo di 14 anni oggi, una ragazza di 13, quando racconta ai suoi amici di essere stata a un museo o a una manifestazione, la prima cosa è davvero, fammi vedere. E se fai vedere una foto di una manifestazione o di un museo, quella foto è presa da internet, che c'entra? Non hai più nessuna unicità di quell'immagine che già la mia generazione aveva. No, facciamo la foto a Venezia o la trovavi sulla cartolina, su una rivista, o era la tua foto. Adesso no, un secondo, un milione di foto di Venezia. Qual è la differenza? Che ci sei tu. La prova è la tua faccia. E quindi il meccanismo, spesso un po' idiota, di stare sempre a fotografare, in realtà dentro, giusto o sbagliato, ovviamente queste sono altre cose, a me sembra a volte molto ridicolo, a volte invece molto bello, non lo so, divertente, stancante, tutti questi con le mazzarelle. Però, sì, in America è incredibile, però c'è dietro qualcosa. E quel qualcosa mi interessa molto. Mi piace acchiapparlo, capirlo, pesarlo. Ed è interessante capire come i social raccontino molto il nostro interno e lo raccontino, secondo me, sventrandoci. Esempio su tutti. L'informazione positiva non esiste. È una cosa con cui, se qualcuno di voi diventerà mai scrittore, regista, sceneggiatore o comunque un politico, avrà una dimensione pubblica. La prima cosa che impara, e mi dispiace, cioè dovremo tutti vivere un po' di dimensione pubblica per capire molte cose. La prima è che quando hai una dimensione pubblica, non frega niente una notizia positiva su di te. Faccio un esempio personale, anche un po', come dire, narciso. A un certo punto succede che il Guardian, mi arriva la notizia, Roberto, il Guardian ha fatto il tuo libro, che aveva fatto 000, ha fatto il tuo libro, il Guardian ha detto che è il libro dell'anno. Dentro di me il Guardian è un giornale che amo moltissimo, si è preoccupato anche dei miei temi in Sud America, quindi avevo una continuità proprio di anima e contentissimo. Faccio nulla, faccio il mio post, nessun giornale italiano lo riprende. Se l'ultimo dei blog dell'Alaska ti stronca, tutti lo riprendono. Perché? È ingiustizia contro di me? Ma certo che no. È l'informazione, bellezza. Non può viaggiare un vettore positivo su una figura positiva o percepita tale. Messi, paragoni ai gnom, non sono all'alte... comunque Leo Messi fa notizia quando sbaglia il rigore, non quando lo segna. E quindi sappiate che chiunque di voi avrà un grammo di visibilità, quella visibilità non verrà mai raccontata in una dinamica positiva. E mi fa molta tenerezza vedere la classe politica che pensa che si possa avere un racconto positivo di qualcosa. Non esiste più. Non esiste più. Perché le dinamiche positive sono dinamiche che in qualche modo vengono considerate paradosso, ipocrite, pagate. Incredibile. Ed è il motivo per cui, questo è un fatto italiano, specifico italiano, è il motivo per cui quando tu vai in televisione e insulti, dici parolacce, sembia autentico. Se invece mantieni un linguaggio per esempio elegante o di rispetto, paraculo, furbo. Questa è la guerra che stiamo vivendo, vera. Per cui le persone che vengono da fuori ci vedono come dei marziani. E lo siamo. Ed è una cosa bellissima per certi versi e drammatica per altri. Quindi non può esserci. E sono tante le ragioni che forse una sera non ci basta per elencare. E questo per arrivare alla storia di come a un certo punto, qui in questi spazi è possibile parlare di sé, anche per questo che ho accettato poi l'invito di Francesco e sono stato contento che insieme a Sandro ho visto questi spazi incredibili, che a volte a forza di vivere nella chiavica come vivo io, mi dimentico che ci sono dei pezzi così. Ma davvero, dimentico. Allora, si arriva a un punto. Il punto è proprio qui, e cioè che a un certo punto c'è un cortocircuito. Il cortocircuito è quando tu racconti una contraddizione, una ferita, quando racconti il dolore, il buio. Non è più il buio, la ferita e la contraddizione a essere il centro del dibattito. Ma chi ha acceso l'attenzione sulla ferita, sulla contraddizione e sul buio? Per dirla in maniera più elegante, e cioè citando Giacomino Leopardi e Lo Zibaldone, si odia non chi fa il male, ma chi lo nomina. E questo è incredibile, ma avviene anche qui, soprattutto qui in Italia. Allora, diciamo in questi spazi che in questi spazi si può parlare di sé, si può condividere senza che questo sembri un esercizio semplice e banale di misura dell'ego, ma una condivisione. E quindi condivido questa ferita che ho e mi porta e mi porterò chissà per quanto tempo. Per cui succede che nel mio paese, nel mio territorio, che è il vostro territorio, si ammazza quotidianamente, ci si spara quotidianamente. Viene presa una ragazza dell'organizzazione, una ragazza gay, quindi che si fa asportare i segni, che si taglia i capelli corti, 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 che ha una posizione molto dura anche come narcotrafficato, le sparano, la buttano ancora viva in un buco, la ricoprono. Succede che le paranze, cioè sono organizzazioni di ragazzini, sparano, fanno le cose stese sui palazzi, con pistole? No. Con fucili? No. Con fucili di assalto, cioè la K-47, fucili di guerra? No, fanno questo. Succede questo. Succede che un gruppo di madri di questi ragazzini, madri piccolo-borghese, professoressa educazione fisica, piccola commerciante, si incontrano e dicono noi dobbiamo dire ai nostri figli, sono cimiciate, c'erano la cimice sotto il tavolo, dobbiamo dire ai nostri figli di fare le rapine, non gli omicidi, perché con le rapine si fanno cinque anni, con gli omicidi se ne fanno quindici. Quindi succede questo. Succede che arrestano un presidente e un partito in Campania. Succede che questo presidente, secondo le accuse, si rivolge per avere un pacchetto di voti per un imprenditore, insomma succede questo. Succede che in un paese all'Ocri non si può candidare una persona, un sindaco. Ci sono interi e intere città e città in Calabria, in Campania, in Sicilia, in Sardegna, dove nessuno si candida. Quindi le elezioni non ci sono. E poi si racconta questo e sono io che trasformo i giovani in criminali, che spettacolarizzo queste storie educando al crimine le nuove generazioni e potete immaginare che su due piedi questa cosa all'inizio e voglia di spaccare tutto. Voglia di spaccare tutto e di dire adesso vado via da questo posto infame, questa gente si merita quello che hanno, è esattamente quello però che loro vorrebbero. C'è una reazione di pancia stupida, superficiale, fatta col muco e non con la testa e col cuore. Allora cerco di tirarmi su quel coraggio, testa e cuore e dico dannazione, perché si fa così? Perché si dice questo? Perché si dice questo e negli Stati Uniti, in House of Cards, il presidente degli Stati Uniti ammassa persone, chiude la stagione dicendo noi creiamo il terrore e non riceve 50 querelle come me e impallinamenti quotidiani sui giornali. Perché? Perché è diverso. Perché che cosa farà? Che cosa succede se io racconto queste storie? Sto muovendo qualcosa. Sto muovendo qualcosa in chi le sta ascoltando. È qualcosa che in gran parte delle volte non ha nulla di positivo. Cioè chi mi sta ascoltando, chi sta leggendo, chi sta vedendo quella serie inizia a dirsi e io che ho fatto? E io in che misura ho a che fare con queste storie? Cosa posso fare? Ma davvero è così? No, non sarà così. Non può essere così. È un'invenzione, è un'esagerazione. No, è un modo per fare soldi. Non può essere. Devi scappare, perché se vuoi entrarci in quella realtà, la tua vita cambia. È un esempio che uso sempre quando vado a parlare a scuola con i ragazzini. E cioè dico, quando andate il sabato e volete uscire e non andare a ballare, nel percorso da casa dove andate a ballare, trovate uno a terra che sta vomitando, che sta male. Se lo aiutate, salta la serata. Se non lo aiutate, magari vi sentite un po' una chiavica, però andate a ballare. Cosa vi dite? Ma guarda, ti è piaciuto bere, ti sei impasticato adesso? Ma tu non lo sai se si è bevuto, non lo se sei impasticato. Ti piace pensarlo, perché così non devi intervenire. Allo stesso modo, quando impatti contro il racconto della realtà in un certo modo, la legittima critica è quella di misurare, o di valutare come l'hai raccontato. La critica illegittima è quella invece di dire, ah ma tu l'hai raccontato perché, ah ma tu l'hai fatto perché vuoi diffamare il paese? Una cosa bellissima. Era quello che dicevano a chi cercava di salvare le vite durante la prima guerra mondiale, disfattista. C'erano le persone che dicevano ma non mandiamo i contadini meridionali e non solo a essere uccisi nelle trincee a migliaia. Ah, quindi vuoi la sconfitta dell'Italia, disfattista e nemico del paese. Ma no, no, non è quello l'ambito. Ecco, questo vi capiterà quando raccontate storie, anche se non sono storie che sfioreranno il tema della realtà o i temi che somigliano a quelli di cui mi occupo io. Cioè succederà che perderete sempre qualcosa. Essere sinceri e raccontare in un romanzo un proprio amore o i propri amici con grande probabilità li perderete perché non hanno piacere essere sentiti usati. Chi racconta, chi si espone perde sempre qualcosa di sé e compromette sempre qualcosa di sé. Ogni volta che vado in televisione io devo compromettermi e lo faccio volentieri se questo significa arrivare a una sola persona che non condivide quello che io dico e che mi piace invece poter sollecitare. Una volta è successa una cosa interessante. Mi capitò di andare a una trasmissione su Mediasetta d'Amici e portai Dostoevsky, Le Notti Bianche. Da allora è il libro economico più venduto di sempre, il Tascabile. Perché? Perché è andato in mano a barbieri, estetiste, parrucchieri, operai edili, meccanici, autisti. Tutta quella parte di lavoratori che hanno poco tempo, che non hanno fatto molta scuola in molti casi e che quindi hanno una specie di fastidio a impegnare i propri soldi in libri e i propri tempi su delle pagine. Ma se in qualche modo incontri la loro vita e cerchi di dire io ho questo libro con questa storia. Boom! Bomba! Quelle pagine, Dostoevsky, Le Notti Bianche, diventano un banco dove loro vogliono mettersi alla prova, capire se quella cosa può piacere e in molti casi hanno una sensibilità ovviamente adatta a capire. Quindi quanto hai perso da intellettuali andando lì? Quanti giorni di insulti? Quanti pregiudizi? Quanta distanza dalle persone legittime che ti vogliono bene e che pensano che una scelta del genere ti abbassi? Cosa a cui io non credo, ma è solo la mia posizione. Questo per tornare alla questione, alla solita domanda che io mi pongo e che volevo portare proprio qui, in questa scuola. quanto siete disposti a perdere per quello che state facendo e decidete della vostra vita su questo con onestà. In molti casi, e forse vi sarà capitato, si è coscienti di quello che si perde, del valore di quello che si ha, non di quello che si perde. Quindi spesso si è coscienti del valore di quello che si ha solo nel momento in cui si perde quella cosa. Questo succede con gli amori, questo succede quando muore una persona che si ama, questo succede quando si perde il proprio stile di vita, la propria tranquillità. Io pensavo di fare una vita tutto sommato noiosa e terribilmente regolare. Quando ho perso 26 anni questa dannata vita, mi sembrava bellissima. ancora adesso dico, bellissima, mia vita ha vent'anni, la vespa, tutto è diventato idealizzato. Perché? Perché quando l'ho persa ho capito il valore, quando l'avevo no. E la scrittura e i libri sono questo, dare il valore alle cose prima di perderle. Questa è la potenza. tu prendi, leggi, incontri, pagine, personaggi, storie, boom, e capisci quello che hai, il valore che ha. La potenza di Primo Levi, dice questo è un uomo, libro fondamentale, non perché parla dell'olocausto. Sapete che fu rifiutato? Quando lui scrisse il libro fu rifiutato per più anni da Enaudi e fu pubblicato da un piccolo editore torinese, De Silva, credo. E perché fu rifiutato? Gli dicevano esagerato. Il racconto è esagerato. E dicevano altri non hanno raccontato così Auschwitz. Immaginate. Sapete qual era il sogno? E lo racconta Primo Levi nel libro, il sogno ricorrente che aveva. Il sogno ricorrente era di tornare a casa, di mangiare, era il sogno che aveva ad Auschwitz, di mangiare, di parlare di Auschwitz e nessuno gli credeva. Era un sogno che avevano moltissimi. Torniamo e nessuno ci crederà. Nessuno ti crederà. E andò esattamente così. Cosa ha fatto la differenza? Quel libro non ti parla di Auschwitz. Quel libro ti fa essere ad Auschwitz. Dopo se questo è un uomo nessuno può più dire di non esserci stato. Questa è la differenza tra un saggio scientifico necessario. Sto mettendo la saggistica o quel tipo di analisi al di sotto della letteratura, per carità. Sto dicendo che la saggistica può diventare la letteratura. Anche le fotografie di Robert Capa sono letterature per quanto mi riguarda. Quando hanno questa caratteristica, cioè diventa letteratura quando non hai semplicemente lì, non hai semplicemente giusto, non hai solo l'informazione, non hai solo la prova di un fatto, ma sei in quel fatto. Quindi coinvolge tutto. Occhio, mente, emozione, nervi, pancia. Lì è letteratura. E questa è la grande differenza che fa sì che Primo Levi ti porta ad Auschwitz, Barlam Shalamov e Vassili Grossman ti portano nell'inferno dei regimi comunisti. Allora cosa accade? Accade che ti trovi a essere in un paese dove succede quello che vi ho appena raccontato oggi, questo non succedeva solo ieri, eppure hai la sensazione che sia tu il responsabile. Più di una sensazione, perché te lo dicono, spettacolarizzi il male. E quando mi dicono questo io consiglio di bloccare immediatamente Shakespeare perché ha diffamato la Danimarca. Cioè del Marshall Danimarca è la più grande pubblicità negativa che possa esserci. Ah, blocchiamo tutte le serie. Blocchiamo Selin, fermiamolo, perché se lo si legge quanto turpe diventa l'animo. Il Consiglio Comunale di Napoli bloccò, vi giuro, la pelle di Curzio Malaparte, considerandolo un libro contro la città e vietò la vendita del libro nelle librerie. Tutto questo secondo me può permettere di fare una valutazione. E cioè capire quanto anche pesa la parola, quanto una frase, un racconto, un video, nel momento in cui decide di rompere tutto ciò che è superficie e andare giù, può trasformare. Una delle frasi che sembrano quasi scontate, retoriche oggi, in realtà sono di una potenza che è soltanto la semplicità poetica. Ce l'ha il Talmud che dice da qualche parte arriva al cuore la parola che nasce dal cuore. Scontato, ma provatela a declinare su una realtà complessa, su una difficoltà. Questa cosa che parte dal cuore significa essere sinceri, non fermarsi, non essere appunto lì paraculi, cioè fare strategia. Strategia è giustissimo farla quando si tratta di migliorare il proprio lavoro, ma non quando si tratta di salvarsi. Se decidete di fare lo scrittore, il regista, lo sceneggiatore, il pittore, non ci si salva. Non ci si salva. Non ci si salva neanche dal giudizio più fastidioso, quello che siete egocentici, lo siete? Siete disturbati ovviamente. Nessuno sano fa una cosa del genere. E con sano ovviamente il gioco è poetico, cioè intendo dire una persona che vuole costruire un percorso legittimo, disciplinato, in grado di non ferire chi è vicino. Invece gli avvocati non feriscono chi è vicino, forse sì ovviamente. Però per quanto mi riguarda sto raccontando la mia esperienza o quella delle persone che fanno più o meno il mio lavoro e ho visto che cosa succede. Perché i dettagli sono fondamentali. E quando è che ti accorgi che immediatamente ti accorgi da un dettaglio, se vi capita di vedere dei lavori, dei lavori fatti a casa quando arrivano gli operai, no? Sia giusta. Capite subito l'estrazione diciamo del committente, cioè della persona per cui stai lavorando o bisogna lavorare. Capisci subito l'estrazione da un dettaglio. Se la persona ti dice senti mi devi rifare il pavimento, è un'estrazione diciamo popolare. Se invece dice rifacciamo il pavimento, prendiamo i vasi, prendiamo, prendo io, che significa prendiamo, quella roba lì è già un'altra classe, è un altro pezzo di paese che parla così. Si include quando poi restano a guardare. Rifacciamo il pavimento, rifai il pavimento. Tutti questi dettagli li sto raccontando semplicemente perché nello stile, nel metodo, questa roba è molto più importante di qualsiasi altra per raccontare la realtà e per essere autentici. I dialetti, il linguaggio dei corpi, più della, questo è solo il mio punto di vista, ovviamente ce ne sono molti altri, ugualmente legittimi, parlo solo della mia esperienza. Per quanto mi riguarda io ho sempre fatto così, ho sempre fatto così. Il successo per me più grande appunto della serie ieri che mi è stato dato oggi e che durante le due ore di Gomorra alla serie Pornhub ha perso il 16% di traffico. Incredibile. L'ha comunicato Pornhub. Una cosa, giuro, una cosa del genere, a me serve da narratore per raccontare molto di più che il commento, il post, la reazione. Perché? Guarda la realtà lateralmente, guarda lateralmente, guardala sotto, guardala inaspettatamente. Oppure puoi fare il futurista dei no altri, cioè provoca, mi piace meno. Guardala di lato dove non te l'aspetti, trova nuove connessioni, dammi la possibilità di prenderti e accompagnarti. E, e così chiudo, cosa succede? Succede che a volte ci sono dei temi che vengono considerati sporchi. Davvero. Quando io ho scritto questa cosa, mica mia mamma era contenta. Mia mamma diceva, ma come? Ti sei lavorato in filosofia, studi Giordano Bruno e scrivi di queste schifezze. era una roba, davvero. Ma perché era una cosa legittima? Cioè, ma, ma, non è una roba, no? Non è nobile, non è di qualità, non è una bella storia, insomma, robaccia. Tanto è vero che quando io ho iniziato a occuparmi di queste cose mi si diceva continuamente, non c'è sta ricco, mi si diceva continuamente, se tu quando iniziavi a scrivere sui giornali, no? Se continui a consegnare il ritardo ti sbatta a occuparti di camorra. Era proprio la cosa tipica, che era una schifezza. A me non interessava la verità che pur vivendo ossessionato come oggi, dominato da queste storie, dominato, a me non è mai interessato raccontare la camorra o la mafia o l'andrangheta, a me interessava raccontare il potere e queste storie che permettono di raccontare il potere come non mai la dimensione umana, la crudeltà, la ferocia e cosa sono disposti a perdere per avere potere. Io questo ho imparato da loro. Un giorno vado a vedere una sorta di documentario fatto interno però per l'arma dei carabinieri sul 41 bis, il carcere duro. Il resto sapevo, ho letto per anni, però non avevo visto la quotidianità. Cavolo è un inferno il 41 bis, un inferno, dove metterlo appunto i boss, soprattutto boss. E mi dico ma come fanno a stare lì dieci, quindici anni, silenzio tombale, puoi incontrare i tuoi cari solo con un lastrone blindato, intercettata ogni parola, ora d'aria da solo al massimo con un'altra persona quando ti premiano, televisione censurata, libri censurati, giornali censurati, tutto così. Risposta che mi ha dato una volta Giuseppe Pignatone che stimo molto. E te ero beh, attenzione, proprio tu mi dici come mai. E io stavo lì ad arrovellarmi su quale strategia usassero psichica per reggere. Io, che mi addestro continuamente a reggere la condisciplina, la mia vita così, confesso che dopo quindici giorni di 41 bis dico cosa devo dire? E firmo. E Pignatone mi dice, Alberto, attenzione, i boss non ragionano riguardo al tempo come te, i boss ragionano per ere, ere. Cioè la loro era muore qui, il loro tempo muore qui, ma l'era della loro famiglia vivrà nel nipote che grazie al suo silenzio sarà un importante imprenditore, in questo caso cito Condello, a Montreal, o a Parma, o qui. Cioè l'idea è il silenzio del mio tempo porterà. È incredibile, no? Però ancora una volta guardi quel posto lì da sotto, dal lato, il potere. Perché piacciono le serie crime, i libri crime, le storie nere. Perché? Perché guardi le contraddizioni della tua vita senza le mediazioni che ha la tua vita. Il tuo capo ti caccia e non ti spara in testa, ma la dinamica con cui ti ha cacciato il tuo rivale è molto simile a quella con cui i casalesi hanno ammazzato i secondiglianesi. E allora quando ti vedi quella storia, vedi la tua, ovviamente, radicalizzata in una dimensione altra, ma proprio perché radicalizzata è più chiara a vedere la dinamica, identica che ti è capitata. Cioè cavolo, vedo il mito, in qualche modo il nuovo mito, quindi quello che chiamano spettacolarizzazione. È in realtà semplicemente un racconto che diventa poi simbolo. Allora perché tutto questo ti porta a perdere qualcosa? Perché tu se guardi l'abisso, citando il vecchio anice, prima o poi l'abisso guarda te e quindi perdi la fiducia, a me è assolutamente successo. Cioè posso, un po' fingo quando dico speranza, queste cose sono un po' le devo dire perché, no perché se no ho sempre purtroppo un'immagine che non mi piace avere, il depresso malinconico. Una volta mi capitò, vi giuro, un'intervista con un giornalista del paese, fu carino, un'ora e mezza di analisi del Sud America, disse bravissimo, ha ascoltato tutto. Poi mi alzo, avevo delle grandi occhiaie e mi dice ma come va Roberto? E si va, non dormo più. Ma perché? Ma sai perché, gli dico, perché al processo per minacce dei boss bidognetti, 35 omicidi condannato, Iovine, 60 omicidi hanno condannato, quindi le minacce contro di me che sono state fatte pubblica, storia lunga, cioè lette durante un processo, il loro avvocato ha dichiarato, il loro avvocato di che? Santo Anastaso, ha dichiarato che quelle minacce le aveva fatte lui indipendentemente dai boss e che i boss che avevano firmato quel documento avevano firmato su un foglio bianco su cui lui poi aveva scritto la minaccia o la presunta minaccia. Quindi lo Stato assolve i due boss e condanna l'avvocato. Lo condanna con l'articolo 7, cioè aggravante mafiosa, condannandomi alla scorta a vita, tra l'altro. Quindi il boss, non mi sembrava possibile. Dicevo ma non può essere vero. Tra l'altro eravamo io in aula, Manuela, la mia assistente che è anche qui, e loro erano pieni familiari, cugine, zii, tuanda. Noi soli, mio avvocato con lei piangeva, eravamo in una situazione drammatica, che non ci potevamo credere, con i giornalisti inglesi che dicevano ma scusate ma allora non sono boss, cioè se sono stati assolti non sono boss. Bidognetti che si alza e applaude. E allora io dico al giornalista del paese, sono a pezzi, non riesco a dormire, ho queste immagini avanti, però devi dormire, ma tu che fai per dormire? E io rispondo ingenuamente, questo vi servirà un giorno, ingenuamente rispondo, beh come faccio? Mi abbuffo di gocce, dormo, che devo fare? Titolo del paese, non so se ve lo ricordate, Saviano usa psicofarmaci, con Gasparri che ogni tanto mi scriveva sotto i miei post, attenzione esageri con le goccine. Grandissimo. E questa cosa, no? Quindi tutta l'ora e mezza sul Sud America svanisce di fronte alle goccine. Però a me per esempio sì ha dato fastidio perché ma conosco le dinamiche, no? Però che cosa è? Sempre il discorso, cosa perdi? Perdi anche questo. Perdi che tu ti identifichi con l'oggetto che vuoi raccontare e non c'è nient'altro da fare. Se volete fare un lavoro vero l'oggetto lo dovete spolpare, mangiare, ingoiare e quindi dovete diventare peggiori. Peggiori. Questo è il metodo che ho usato. Io sono diventato un essere peggiore, cerco di essere, cerco di modificare, cerco di essere come dire, di mantenermi, insomma è complicato. Però diventi peggiore, cioè diffidente, terrorizzato dai comportamenti delle persone perché ti confronti con il male, ti confronti con quello che non funziona. E tutto quello che, per esempio, quando sono entrato qui e la prima cosa che ho pensato quando Sandro mi ha fatto vedere queste stanze, la prima cosa, cazzo che bello, ma allora come è possibile che io non gli ho mai proposto di fare una cosa qui? Perché io non credevo potesse di sì. Ormai io vado talmente soltanto nei posti di monnezza che non ci penso proprio. Ma perché questo? Perché io prima di venire qua ho letto e raccontato, io ho scritto contro quel clan, io ho raccontato del traffico di ISIS in Albania, cioè sono attratto da quelle storie. Voi magari sarete attratti da altre storie e quindi avrete un altro modo di perdere qualcosa. Questo è soltanto il mio modo di perdere qualcosa. Poi c'è chi perde altro, chi si occupa di altro, chi racconta di sé. Anche scrivendo Anais Nin ha perso amici, anche l'amorante lo racconta. Perdi amici, perdi persone, Capote, l'ultima biografia di Capote che è stata fatta, gli amici lo detestavano perché lui si ispirava, ma non metteva i nomi, a volte sì, a volte no, si ispirava alle persone intorno, si riconoscevano e lo odiavano. Achille Campanile, persino un comico, Achille Campanile dice la famosa frase, per una battuta vale la pena perdere un'amicizia, per una buona battuta. Persino un comico perde qualcosa. È interessante questa cosa. Chiudo, prima delle domande che è interessante ricevere, con l'aneddoto di Giustino Fortunato. Giustino Fortunato era un grande meridionalista. Io esisto grazie al fatto che sono esistiti Gaetano Salvemini, Giustino Fortunato e uomini come loro che hanno, come dire, raccontato, mappato il Sud e hanno saputo, come dire, riconoscere una qualità. Gaetano Filangeri, andando più indietro, hanno saputo trovare una qualità umana connettendola immediatamente con tutta la storia del Sud e dell'Italia intera. Quindi una loro pagina ti connette alla grandezza del logos greco e allo stesso tempo attraversi tutta la storia del Rinascimento. È incredibile. Vi consiglio di leggere questi autori su due Salvemini e Fortunato. Comunque, Giustino Fortunato quando era giovane, era un conservatore, apparteneva alla destra storica, decide di candidarsi al Senato e gira paese per paese, paese per paese, i paesi della dorsale appenninica meridionale e vuole sapere dalle persone, dai contadini, dai medici, dagli artigiani, vuole sapere cosa lui deve andare a fare al Senato? Forse al Parlamento non è al Senato. Cosa devo portare? Cosa devo dire? Che istanze devo difendere? Ditemi combattere la pellagra, fermare la diffusione dell'analfabetismo, ditemi la priorità, la prima cosa che devo fare e poi la seconda e poi la terza. Guidatemi. Per essere guidato devo passare del tempo e capire. E lui gira tutti e si prende i nomi delle persone più attive che erano convinte che l'unità italiana avrebbe cambiato quel paese. Poi diventa parlamentare e ritorna anni dopo da queste persone. E mi ha sempre colpito che nei suoi diari scrive, quando le va a chiamare, ma ci sta il dottore? Ma l'avvocato? Ma quell'artigiano? La risposta, lui scrive, che sente è, no ma quello si è chiuso. No ma quello si è chiuso. L'espressione bellissima delle mie parti, che qualcuno oggi tradurrebbe con l'orrenda parola depressione, si è chiuso. Cioè ha deciso di non soffrire più, di isolarsi e di bloccare quello che potrebbe essere l'assedio della realtà alla propria vita. E Fortunato scrive, il mio compito deve essere quello di far schiudere queste persone. Chiudersi significa proteggersi. E allora forse il compito che ha senso fare quando decidete di fare quello che state facendo, cioè di formarvi in quella direzione, è proprio questo. Cercare di difendervi dalla inevitabile voglia di chiusura e provare col vostro lavoro a far schiudere. Tutto qua. Facciamo la domanda? Eccovi. Comincio io. Proprio un anno fa mi sono laureato con una tesi su di te. Quindi trovarti qui adesso è stranissimo, sinceramente. E il succo di quella tesi era un po' di come Gomorra inventi un genere narrativo. Perché prende delle cose reali, gli dà una forma di fiction come ha fatto anche Truman Capote, ce l'hai detto tu stesso. Però inserisce quello che tu hai chiamato l'effetto selfie. Ossia te come protagonista, testimone, autore. Visto che tu hai fatto anche il giornalista per tantissimo tempo su Nazione Indiana, sul Corriere del Mezzogiorno. Come è cominciato questo processo di trasformazione della tua voce da giornalista ad autore, scrittore? Ma sai, in fondo non ho mai scritto come giornalista, intanto è vero che le critiche che subivo sono le stesse che subisco ancora oggi, che mi piacciono molto a dire la verità. Cioè per gli scrittori sono giornalista, per i giornalisti sono scrittore. Quindi questo ruolo bastardo non proprio mi piace. E ancora di più la cosa interessante è che quando per esempio un racconto ha successo, parola ingiusta, diciamo quando viene diffuso e viene molto condiviso, la prima cosa che viene detta è, ah ma questa cosa l'ho già scritta io, ma questa cosa già è stata, beh è ovvio, Paolo Di Laure è stato arrestato, è naturale che è già uscito da decine di parti. Ma perché mi piace questa critica? Mi piace questa critica perché la letteratura è come se battezzasse di nuovo un fatto. Cioè se io scrivo un articolo e parlo dell'arresto di El Chapo Guzman, è un articolo tra i duecento. Se ci faccio un libro, la persona che ha già scritto dell'arresto di El Chapo Guzman, dice ma questo l'ho scritto prima io, ma certo è un fatto di cronaca che io però ho fatto diventare letterario. È come se la letteratura rubasse in qualche modo e ribattezzasse la cosa. Io quindi ho deciso di raccontare in questo modo per mantenere, come dire, un metodo giornalistico con uno stile letterario e addirittura la possibilità di avere la verità della poesia, cioè una verità quasi incomunicabile. Questo era il mio sogno, non sempre ci sono riuscito, forse a volte l'ho sfiorato. Però devo dire che è sempre stato dominato dalla rabbia, cioè io decido di scrivere all'indomani di una serie di cose che mi fanno impazzire di rabbia, cioè ammazzano Federico Del Prete, di cui peraltro non neanche parlo, che era un sindacalista delle mie zone, che conoscevo, e silenzio assoluto. Avevano poco prima dei media, degli intellettuali, non sapevano niente. Ormai era una stagione morta, poi avevano sparato alla schiena di Antonio Cangiano, un vice sindaco di un paese vicino al mio, sempre, zero. Poi c'era stata la morte di Don Peppe, che era stata anche quella, io ero il più ragazzino con 16 anni, cioè avevo una serie di cose che diciamo, ma com'è possibile? E lì ho avuto la grande e mistica fiducia nella letteratura, cioè se io affronto questi temi dentro un flusso narrativo, li faccio rinascere. E quindi forse è stato il fine, ecco, cioè portarlo a un'altezza diciamo più universale e meno, come dire, non volevo portare il commissariato locale a scoprire qualcosa, volevo che esplodesse una sorta di nuova verità dentro il lettore, quindi è stato ancora più delirante, romanticamente delirante. Ma comunque guidato da una grande rabbia, questo è stato il motivo per cui ho scelto questo stile. Fra il 2007 e il 2008 Gomorra ha visto una trasformazione prima teatrale e poi su grande schermo. Queste in fin dei conti riadattavano alcune parti del romanzo rendendole autonome senza però espanderne molto la narrazione, togliendo anche un pochino quelle selfie che c'era. invece c'è stato un processo diverso con la serie che non solo aggiornava tutta quanta la narrazione ma andava un pochino anche a riraccontarla facendo un focus un pochino diverso, forse anche perché era studiata anche un pochino per il mercato estero. Si vede infatti questa trasformazione è come mai c'è stato questo scarto prima di tutto e secondo te in questa forma ha trovato creando questo universo narrativo la forma più compiuta? Difficile rispondere. Diciamo che in genere quando io scrivo ho sempre voglia di sperimentare per cui sia il teatro, il cinema che poi la serialità televisiva sono proprio obiettivi che io mi sono posto, devo dire non con Gomorra dall'inizio va detto ma per esempio con nuovi libri, con i nuovi progetti da subito io penso a le varie declinazioni. Infatti sono proprio anime diverse. Il film, il libro, il teatro ognuna prende dei pezzi. Secondo me il progetto Gomorra si è compiuto con queste varie declinazioni. Ci manca il videogame che pure mi hanno proposto ma non sono così ancora esperto perché poi in tutte queste decrezioni io ci sono, ci scrivo per il teatro, scrivo per il cinema. Il videogame è una sorta di Call of Duty, lo farei volentieri se ne avessi le capacità, lo devo studiare. In Gomorra serie non c'è il bene, in Gomorra film non c'è il bene, non c'è il punto di vista del bene. Questa cosa era inimmaginabile farla produrre in Italia, impossibile, perché l'idea è sempre in qualche modo educativa, cioè cosa educhiamo? Facciamo vedere quello cattivo, facciamo vedere che c'è un buono che vince. Questo anche nella cinematografia non serve, ma Americano lo sassone è così. Io non volevo questo, non solo, ma non volevo che lo Stato avesse, quindi la giustizia, un ruolo da protagonista che non ha nella realtà che io studio. E lo Stato infatti nella serie è un'interferenza, ogni tanto, perché questo mi permetteva di far vedere allo spettatore il punto di vista della famiglia mafiosa. Quindi io non voglio semplicemente che lo spettatore si intrattenga, ma deve avere, prendersi su di sé quel punto di vista. Cioè io voglio che lo spettatore quando guarda deve diventare una chiavica come il personaggio che sta osservando, per capire quanto di luce è dentro, disgustarlo, per un momento anche empatizzare e poi subito respingerlo. Questo è il percorso che mi sono immaginato. Poi non sai mai quando costruisci, che cosa succede, non ti appartiene più. E quindi dentro di me, diciamo, la coerenza con queste storie, ho sempre cercato di mantenerla rispetto all'obiettivo, cioè svelare anche i meccanismi. Era una delle cose che mi preme. Infatti io sorrido quando dicono che appunto, ma così la spettacolarizzazione del male, l'idealizzazione, la mitizzazione, sono tutte parole veramente che considero molto stupide, perché per esempio c'è tutto il racconto di come avvengono le cose, come si trucca un'elezione, la stagione 1, come si apre una piazza di spaccio, come si taglia la coca, come si fa una puntata, cioè la puntata significa tutti i soldi che vengono utilizzati per comprare, cioè cose che difficilmente, a meno che tu non sia un patito di quegli argomenti o un tecnico, difficilmente sai. E quindi io attraverso una storia ti porto a conoscere quei meccanismi. Quindi secondo me sei mantenuto lo stesso stile in ogni declinazione e oggi credo che il compito di un narratore sia proprio questo, cioè la serie televisiva, chiudo la risposta, la serie televisiva perché sta appassionando così tanto? Perché dà tempo, la cosa che più ci manca. I libri non vengono più letti non perché c'è il Kindle, ma perché non c'è più tempo di leggerlo. E quindi la serie televisiva, la cosa importante che ha, che approfondisce. E quindi in questo senso secondo me mi ha molto, come dire, è stata molto coerente con il mio progetto. Allora, questa è anche una scuola di scrittura e c'è un momento nel percorso didattico in cui si lavora la costruzione del personaggio. E' una cosa che personalmente mi spaventa tantissimo perché un conto è descrivere in un racconto un personaggio, dargli un nome, un cognome, farlo muovere. Un altro conto invece è scavarlo proprio a fondo, conoscerlo, capire la sua psicologia. La camorra che personaggio è? E come si fa a raccontare un apparato così grande e a non provarne repulsione, mi verrebbe da dire? Io nella fine ne provi repulsione e anche attrazione, come sempre le cose che funzionano, che funzionano intendo dire che attraggono la ricerca. De Felice, che non era assolutamente un fascista, si vede che è uno storico attratto da ogni centimetro di pelle di Mussolini. Renzo De Felice. E io sono completamente attratto da queste storie, invaso da queste storie e disgustato, fatto a pezzi da queste storie. Un maestro di giornalismo che era Peppe d'Avanzo di Repubblica, che avevo fatto un tempo a conoscere, tutti lo ricordano per la sua bravura, io lo ricordo per un dettaglio, e cioè che dopo le sue inchieste lui crollava, fisicamente, non riusciva ad alzarsi, cioè era disgustato da quello che scopriva, e non ce la faceva più. Stavo con la sua noce, il cane, e questa cosa mi ha insegnato molto, perché sentivo il peso umano di questa cosa. Quindi il personaggio Camorra lo puoi affrontare soltanto attraverso i mille personaggi che racconti, che fanno parte di questa organizzazione, senza mai, mai e mai avere la tentazione di costruire il mostro, cioè l'alto, l'estremo. Hai sempre bisogno, per il mio metodo, di far capire al lettore quanto gli sia vicino, quanto non sia affatto una cosa strana, è quanto possiamo essere noi, spostare di qualche centimetro una nostra decisione esattamente identica alla qualche centimetro. Ecco perché i racconti di guerra in genere mi attraggono molto, perché in una situazione radicale emerge tutto ciò che è l'uomo. In un libro che vi consiglio assolutamente di leggere, capolavoro assoluto, che mi ha cambiato la vita, si chiama I racconti della colima di Varlam Shalamov, scritti dopo più di 15 anni nel Gulag. Shalamov dice una cosa incantevole nella prefazione, Shalamov ha perso tutto per aver fatto quello che ha fatto, cioè scrivere tutto, la figlia lo rinnega, la moglie, tutto, non è neanche diventato famoso, zero, non ha vinto il Nobel, zero. Una volta Solzhenitsyn, quando vince il Nobel dice che nel libro arcipelago Gulag scrive e poi un gatto, Shalamov gli mandò un unico telegramma con su scritto un gatto, non poteva esserci un gatto, l'avrebbero mangiato in un secondo, poi gli dice Alexander ti sei sbagliato, non poteva esserci un gatto in quel ospedale. Shalamov dicevo, tornando alla cosa che stavo dicendo, ha una prefazione eccellente sui racconti, dove dice la cosa più importante per me è stata quella che io non ho tradito mai dentro il Gulag, cioè ogni giorno mi veniva qualcuno a dire puoi uscire fuori se denunci e gli facevano un elenco di persone. Se tu dici una cosa su queste inventate, quando, lui dice io non l'ho fatto mai, qualcuno mi chiederà ma questo libro è un libro che ti porta al disgusto dell'essere umano? Shalamov dice no, questo libro è una vittoria dell'essere umano, perché se è stato scritto significa che anche in quella condizione dove l'uomo è stato ridotto a niente, anche in quella condizione è stato possibile difendere l'umanità. E quindi lui, sono tutti racconti uno peggio dell'altro, violentissimi, scritti con una potenza, potenza di adesione alla realtà incredibile. E quindi, come dire, alla fine questo è, cioè la possibilità di raccontare una storia e una realtà e sentirla tua e metterti dentro. Non sentire che la stai denunciando, declamando. L'unico modo che ha, secondo me, il narratore, per poter rendere legittima, comprensibile, persino appassionante e sventrarlo e entrarci dentro. Questo è il mio metodo, ovviamente, poi ce ne sono moltissimi altri imparimenti legittimi. Quindi per dirti, per raccontarla cosa devi fare, guardare l'abisso e farti guardare all'abisso. Io invece torno un po' indietro al tuo rapporto con i social. Hai detto tu stesso, hai un sacco di follower. Woods ti hai letto, lo scrittore con più amici su Facebook. E tu sei attivissimo sui social, ripresti un sacco di ruoli, commenti fatti di critica, tieni il contatto con i lettori, riesci anche ad essere un influencer, c'ho orienta i gusti letterali, ci hai raccontato tu stesso un episodio. Qui in questa scuola vieni citato come un caso di studio a riguardo, quindi. Ma quello che ti volevo chiedere è il Saviano scrittore in cosa è diverso dal Saviano social? Sì, benché io cerchi di essere, come dire, con la stessa identità per poter essere diverso sui social rispetto ad altri personaggi, personaggi, infatti ho detto anzi personaggetti, dovrei dire come mi chiama De Luca. La differenza è che il social deve avere un'immediatezza che il Saviano scrittore non ha. Il me narratore ha tempi diversi, il me sui social ha tempi sincopati, immediati, però sui social io sperimento di più. Il cazzeggio, il disimpegno, ogni tanto lo provo, creando spesso delusione, perché è così, perché tu devi essere triste, devi stare male, devi stare sempre a combattere, no? Io non dimenticherò mai una volta in cui stavo salendo, non ero ancora salendo, ero in una sala d'aspetto dell'aeroporto, una signora mi si avvicina, dice, ma tu qua stai? E non la riconosco. Sì, perché? Ma come io prego per te, perché ti immagino che stai chiuso dentro una stanza, invece puoi uscire, puoi uscire in ogni momento, no? Lei era delusissima, proprio delusissima, ma come? E questa cosa poi ci devi convivere per sempre. Il social in questo mi aiuta molto, mi aiuta a comunicare che io sono vivo e che non ho intenzione di crepare, ma l'idea invece è quella di, questo devo dire che Salman Rushdie, su questo mi ha aiutato, una volta veniamo, molto bella questa storia, veniamo invitati all'Accademia Nobel qualche anno fa, allora a lui arriva la busta dell'Accademia Nobel, quindi pensa, invece apre un invito semplice che a me è lui, l'Accademia non l'ha mai fatto, non ha mai invitato scrittori a fare conferenze dal podio, dal podio del premio, e infatti quando ci vediamo lui mi dice, ci hanno dato il Little Nobel, e comunque vado lì e fu bellissimo, mi disse una cosa incredibile, mi disse adesso sorridi, sei ancora giovane, ma tra qualche anno che sopravviverai ti diranno ma allora sei un fake, non ti hanno ucciso, allora che? Lui dice, lui tutti i giorni gli dicono quelli, ma come non doveva tutto il mondo musulmano tagliarti la testa? Sono vent'anni, ti sei sposato pure Miss Universo, è incredibile, lui me lo disse e io ci ho riso, è andato esattamente così, aveva ragione, dopo un po' la tua vita diventa quasi una prova che siccome non ti hanno ucciso, in fondo non sei così pericoloso e quindi le tue parole non sono così importanti, incredibile, ma succede di vivere anche questo, e quel social mi aiuta, mi aiuta a ribadire che sono un essere umano complicato con tutte le sfumature possibili, mi aiuta a ricordare che voglio campare, non voglio morire, che non mi è mai interessato fare l'eroe, gli eroi sono morti, io sono vivo quindi voglio sbagliare, fare casino, voglio non essere un simbolo e quindi a volte mi aiuta rispetto alla scrittura, la scrittura è il mio piano però, quello che poi spendo meno perché in dieci anni ho scritto non così tanto, e che poi ogni volta il senso di responsabilità sulle mie pagine è sempre enorme, sia perché ti denunciano tutti quelli che citi sistematicamente, tutti quelli che hanno toccato quell'argomento diranno che l'hai preso da loro e poi l'altra cosa che succede è che dici dopo questa cosa cosa mi succederà, cioè tu immagina che tutto quello che tu stai scrivendo da domani ti crea casino, ora tu immagina come cambierebbe il peso delle tue falangi, falangine e falangette sul computer ed era il momento più difficile del momento Berlusconi quando proprio con Peppe D'Avanzo coniamo l'espressione macchina del fango e cioè a un certo punto tu ti rendi conto, noi ci rendevamo conto in quel periodo non che le cose siano cambiate, che tu scrivevi un pezzo e sapevi che il giorno dopo qualunque cosa avessi fatto, qualunque personalmente, privatamente, non reati, loro avrebbero cercato di farla uscire, qualunque cosa, una casa pesa in fitto, il fidanzato nuovo di tua madre, qualsiasi cosa, solo per dare fastidio, tu come scriveresti quell'articolo? Questa cosa la impari anche, è quello che succede persino adesso che succede in Medio Oriente, ci sono dei ragazzi, o in Messico, delle ragazze che per un mero tweet vengono ammazzati, pagano un prezzo insomma, va bene, abbiamo finito? No, ultimo, l'ultimo, perfetto, perfetto. Allora, dunque, noi ci siamo già incontrati nel 2011 alla Feltrinelli Sia Bari, in occasione dell'uscita di Vieni via con me, e in quella sede io ti ho dato un foglio bianco con una poesia sopra di Baudelaire, L'uomo e il mare, che comincia con un verso, cito, Uomo libero, tu amerai sempre il mare. Due anni prima, a Polignano, ci siamo rivisti, due anni dopo, due anni prima, perché dopo Gomorra, dopo insomma, la bellezza linda, ah sì, vado a scalare, quindi è da me che ti devi guardare. Praticamente Polignano, c'è un signore che tutte le notti esce e scrive sui muri di Polignano, del centro storico, frasi di poesie, e la sua poesia più famosa, perché questa è proprio sua autografa, dice più o meno, qui il mio gemello mare ha ingigantito la mia libertà. Quindi, che valore ha per te la libertà oggi, come uomo del sud e come conoscitore del mare? Come uomo di mare, sì, sono nato a Napoli, quindi c'è un verso di Pio Daniele, non so se ve lo ricordate, sono nato a Napoli, perciò mi piace il mare, che mi ha sempre colpito. È una domanda difficilissima, però mi va di rispondere perché, per quello che so, o per quello che spero, a voi non vi sarà mai capitato di finire dentro o stare in una condizione come me, o a chi è finito dentro e chi è stato in una condizione di reclusione, gli sto parlando di una cosa che sa. Io in fondo sento di essere un privilegiato, perché quello che vivo lo vivono i carcerati, i malati, cioè tutti coloro che non possono decidere liberamente del proprio corpo, della propria volontà, delle proprie decisioni. Io vorrei tantissimo, e non ci riesco, questo è un mio errore di scrittore, io non ci riesco a raccontare che cosa è la privazione della libertà, non ci riesco, gli occhi addosso, l'impossibilità di fare qualsiasi decisione perché sai che verrà giudicata, non solo. l'attenzione, perché io in questi anni ho combattuto un male ferocissimo che non vede l'ora che faccia un passo falso, come avete visto, tutte stronzate. La libertà la può capire, come dire, davvero chi passa attraverso queste cose, cioè chi passa attraverso la privazione della libertà. La possibilità, secondo me, di chi ha la preziosità di essere ancora libero deve essere quella di provare, io quando avevo la libertà non ci ho provato abbastanza, di provare a percepirla, a comprenderla, a sentirla, proprio attraversi i racconti di chi non ce l'ha. Quello ti permette di sentire proprio l'aria in maniera diversa, lo dicono tutte le persone che lavorano nelle carceri, per esempio, dicono che quando escono dal carcere proprio l'aria è più leggera. Cioè, prima la respiravano in maniera diversa. Beh, forse adesso dovrei... mi si affollano troppi pensieri, quindi non sono confuso, per poter ragionare sulla libertà, che è innanzitutto libertà di movimento e libertà di fare errori. Il giorno in cui ti impedirà di fare un errore, perché dovrai sempre rispondere pubblicamente, hai smesso di essere libero. La libertà è innanzitutto libertà di sbagliare e rispondere alla persona che magari hai fatto male e a te, punto. Rimediare alla cosa che magari hai rotto e a te, punto. Quando devi rispondere a una comunità, già questo è perdita di libertà. Ma stiamo entrando troppo nel dettaglio. Emily Dickinson. La poesia, in qualche modo, quando c'è così tanta confusione, arriva sempre in soccorso. L'acqua la insegna la sete. Allo stesso modo. Io ho capito cos'era la libertà. Il giorno in cui mi vennero a prendere alla stazione di Napoli e mi dissero... io tornavo da Pordenone Leggere, ero andato a presentare Gomorra. Mi caricarono su una macchina dei Carabinieri, con i colori, si dice così quando c'è la scritta, dice borghese, e quando non c'è la scritta. E io dissi, per quanto tempo? Oh, dottore, un paio di settimane. passarono dieci anni. Va bene. Grazie. 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 Grazie Roberto.